Salve amici del Centro Meditaliano, dopo un assaggio invernale il weekend inizia con tempo in miglioramento. Vediamo allora le previsioni per sabato 14 dicembre. Al mattino qualche acquazzone o temporale bagnerà anche ora le regioni meridionali con neve in appennino oltre 900 metri. Sole prevalente al centro nord così come al pomeriggio quando si andranno gradualmente ad esaurire anche le precipitazioni sulle regioni meridionali. In serata e inottata la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutta Italia ma senza fenomeni di rilievo, temperature minime in lieve calo, specie al centro nord, massime in aumento al nord e in calo al centro sud. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meditaliano. 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 Un saluto da parte